Perché fuori le ho visti litigare, però speravo fosse finita, capito? Forse è meglio lasciarli stare, ma... E' 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 meglio lasciarli stare... 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 No, no, te la prendi tu questa... E vai, perché non si fa così caro... Non si fa... Vai, 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 per favore... E' meglio lasciarli stare... E' meglio lasciarli stare...